Oggi siamo qui in Val Fredda, bella neve, sperando che smolli un po' adesso col caldo, col sole che viene fuori perché adesso è un po' ghiacciata ma insomma niente male, adesso vediamo se su di qua c'è qualche passaggio per salire, la mia idea era fare il sasso di Val Fredda che è questo qui davanti, questo qua, però non so se c'è abbastanza neve, forse no, adesso salgo e vedremo. Allora, sono salito un po', adesso non so bene la quota, ma sono salito di un'altra 150 metri più o meno, finalmente si vede, eccola lì la linea di oggi, è bella ripiedina, 50 gradi era scritto sulla guida, quindi si si è un bel pendio, stare attenti, adesso salgo ancora un po' con gli sci, poi metto sui ramponi, eccoci nel punto più ripido, saranno sui 50 gradi penso, noi dobbiamo andare suddritti qua e qua sopra c'è la cima, adesso vediamo. Picca e ramponi ovviamente, perché è bello ripido anche se la neve ha smollato, quindi si scalina facilmente. Ciao, allora, oggi niente cima, perché inizia ad essere un po' più, un po' tardi, inizia a scaldare la neve, devo scendere, per salire avrei dovuto passare là sotto, invece sono stato troppo alto e qui da solo, senza corda, non mi fido, su queste rocce qui, quella sarebbe la cima, mancherebbe 100, 120 metri di dislivello, più o meno, non mancherebbe tanto, ma per oggi ci si ferma qui, quindi adesso ridiscendo qua sotto, cioè, ritorno lì alla forcelletta, che vedete lì, e dopo da lì metto sugli sci, e si scende giù, dopo si scende giù per quel bel pendio lì, e speriamo che la neve sia, sia bella, e vabbè, a volte bisogna rinunciare, ci sta, ci sta, ci sta, meglio non rischiare. Pronti per la discesa, si agganciati, e adesso si scende giù di qua, ecco, purtroppo la discesa non la potrò riprendere, perché la action camera praticamente è scarica, anche se stamattina era carica, adesso col freddo si è scaricata praticamente del tutto, quindi niente. Qua a metà della discesa, della parte della discesa fattibile, perché il primo pezzo non c'è neve, quindi si parte 100 metri sotto la cima, qua siamo a metà più o meno, e qua adesso comincia il pezzo più ripido, eccolo qua, che bello questo pendio qua, bellissimo, la neve è molto bella, smollata al punto giusto, qua c'è qualche sasso, ma insomma, li evitiamo, quindi adesso si passa via di là, e purtroppo, come ho detto, sì, non potrò filmare la discesa, ma si è scaricata, speravo che tenesse un po' di più la batteria, e invece, invece niente, si scarica completa l'action camera, quindi ok, adesso siamo insesi qua, adesso qua è il pezzo ripido, bello bello.